Rogo, in provincia di Rovigo, i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Capuccini a Badia Polesine per un incendio che ha coinvolto tre capannoni affiancati, utilizzati per deposito di materiale tessile e accessori. I pompieri arrivati dal comando di Rovigo e Castelmassa sono riusciti a circoscrivere le fiamme, riuscendo ad evitare il coinvolgimento nell'incendio di un quarto capannone. Il rugo ha completamente distrutto uno dei tre depositi che è completamente collassato, mentre gli altri due hanno subito gravi danni per oltre mille metri quadri. L'operazione di spegnimento ha richiesto diverse ore e le squadre del 115 che hanno dato il cambio alle prime luci del mattino si sono occupate di spegnere gli ultimi focolai. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto presenti i carabinieri e i tecnici dell'ARPAV.